Dopo il lungo periodo di crisi, la Calabria stenta a riprendersi, tanto da essere in fondo alla classifica. I dati arrivano dal centro studi della CGA di Mestre e mostrano come la regione debba ancora recuperare oltre 11 punti percentuali di prodotto interno lordo, disintegrato negli ultimi 10 anni di recessione economica. A rendere l'analisi ancora più preoccupante è la prospettiva di crescita della nostra regione per l'anno appena iniziato, mentre infatti l'Italia dovrebbe macinare una crescita media dell'1,3%, le stime per la nostra regione indicano appena lo 0,7%, il peggior indice registrato nel paese. Ad incidere negativamente sulle potenzialità di crescita della Calabria, la bassa capacità di esportare dimostrata dal sistema produttivo calabrese. La regione infatti viaggia con numeri sulle esportazioni che rasentano lo zero assoluto su base nazionale. Alla punta dello stivale viene così tagliata qualsiasi possibilità di recuperare rapidamente il gap accumulato negli anni. E così la distanza tra nord e sud stenta a fermarsi. Per la Calabria la strada resta tutta in salita, mentre altri territori non solo sono riusciti nel corso del 2017 a rientrare nei valori pre-crisi, ma addirittura hanno ripreso terreno. Su tutti il Trentino Alto Adice, seguito dalla Lombardia. Rosaria Giovannone per la CNews 24.